Terminata quella paradossale esperienza del sì e no finale con Conchita Wurst e una sorsia dell'attrice che interpreta Serena Van Der Wurzen in Gossip Girl, Mr. X si ritrovò in una strada oscura. Guardò l'orologio e si accorse che ormai erano le 4 del mattino, ma prima di allontanarsi da quello strano luogo, il transettone austriaco si affannò per raggiungerlo. Aspetta, mein Freund! Ti defutare una cosa che ho dimenticato in titirti! Che cosa, un trenta sul campo di plastica? Noi, 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 tu hai finito pricicietti! Eccola qua! Ma... è dell'oghitti! Rè, vuoi questo? O vuoi tornare a casa tra 15 giorni? Mr. X, senza perdere altro tempo, salì su quella bicicletta dell'oghitti e grazie alla dinamo, riuscì a farsi luce su quella strada buia e raggiungere Roccatore del Greco, anche se non gli era del tutto chiaro il modo in cui aveva raggiunto la sua città di residenza. Quindi, come un ladro, andò a dormire con una discreta serenità, in quanto in tasca aveva la possibilità di presentarsi a casa di Lisa e godersi una notte di sesso con lei. In più, con 5.500 euro in saccoccia, poteva permettersi in un futuro successivo qualche sorpresina migliore di un CD degli One Direction per la sua farfallina abruzzese che, dopo settimane di odio profondo, era tornata ad essere un dolce pensiero. Così, quella sera, decise di fare una sorpresa alla sua Lisa e andò a presentarsi alla casa dello studente di Napoli intorno alle 10 e mezza di sera, l'orario ideale per fare degli incontri intimi. Con sé aveva la proverbiale scatola di cioccolatini modello Paperino deve chiedere scusa a Paperina che si sta intrattenendo con quella checca di Gastone e un mazzo di fiori dell'originale di Tat Duble Tien... Chi è? Lisa? Ah, sei tu. Entra, dai. Mr. X, per nulla stupito dall'atteggiamento freddo di Lisa, entrò comunque nell'appartamento di quel convitto. Per prolungare l'attesa decise anche di farsi sei piani di scala a piedi senza prendere l'ascensore, intanto la ragazza abruzzese lo aspettava pazientemente sulla porta. Appena il protagonista arrivò, lei si sbottonò la camicetta da coltivatrice di pricocchi a maniche a giro, da cui spuntava maliziosamente un reggiseno nero in pizzo. Che belli! Sono per me? Sì... Annaggia... Che ho fatto? Sei fai? Prima di dover chiamare il 118 prendi un po' di fiatto e dammi qua. Lisa mese ai regali dietro la porta senza far entrare Mr. X nell'abitazione, intanto lui riprese fiato e fu finalmente in grado di fare un discorso di senso compiuto senza rischiare la morte. Perché non mi fai entrare e perché mi mostri maliziosamente le zizzette? Non crede di voler sapere un po' troppe cose? No, no, solo un po' di curiosità. Mr. X, presso dalla foga, diede un bacio sulla guancia a Lisa che quindi si convinse a farla entrare. Lo sai che curiosoni sono anche molto chiacchieroni? La farfallina bruzzese, per distrarlo, continuò a farsi baciare e accarezzare, per non far nutrare che intanto sul divano c'erano lavi in mutandine appoggiata sulle gambe di Giulio Pasqui, che indossava un paio di jeans dopo aver lanciato la maglietta verso di loro. Dopo averle tolto la camicetta, però, Mr. X si accorse degli altri due ospiti in casa e rimase sterefatto ed immobile per diversi secondi. Intanto Lisa cominciò ad accarezzarsi i capelli e a guardare il pavimento. La via Giulio, però, non se ne avvidero e cominciarono ad andare decisamente più a fondo. Grazie.